Credo che bagliamo, sapete che quando evitiamo o cerchiamo di saltare il dolore, frequentare il dolore padrense. Per me l'esperienza di stare con il gruppo Reign è qualcosa di prezioso. E prima di oggi il dolore non sto molto bene perché ho vissuto di cose bellissime stamattina con i due gruppi da noi. E sono molto contenta.